Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con la prima bevanda della serie, si tratta dell'Energy Drink B, è al gusto di guaranà e questa è una lattina un po' particolare perché è la versione senza zucchero. Eccoci ora al retro della lattina, ovviamente anche qui viene messo in evidenza il fatto che non c'è zucchero ma il gusto rimane uguale al massimo, qui ci sono gli ingredienti, l'acqua è il primo posto, poi ci sono ovviamente anche gli altri ingredienti come la taurina, l'estratto di guaranà che è solo lo 0,12% e la caffeina e ovviamente tutti gli altri. Ecco qui troviamo anche i valori nutrizionali, per lattina vediamo che l'energia sono 27 kJ, per la composizione invece ci sono 78 mg di caffeina, mentre la taurina sono 500 mg, sempre per lattina. Ok adesso andiamo a versarla, l'ho già aperta ovviamente perché con una mano sola non ce la facevo. Sembra ovviamente molto frizzante, ha un profumo molto forte ed è ovviamente gialla. E adesso ovviamente assaggiamo. Il gusto è molto forte, si sente molto il gusto della guaranà, non so che gusto abbia ma penso abbia questo. Non è molto zuccherata, infatti a me non piacciono le bevande energetiche classiche tipo la Red Bull e le altre perché sono troppo sdolci. E questa invece a me piace, penso che la ricomprerò sicuramente se mi serve un po' di energia. Quindi se la trovate, non so se si trova in Italia, ma se la trovate compratela, soprattutto se avete il mio stesso problema e non vi piacciono le bevande troppo zuccherate. Vedete un pollice in su, seguitemi sui social, vi lascio tutti i link in descrizione e ci vediamo alla prossima puntata ovviamente. Ciao! Grazie a tutti!